Ma che temibile combattente che abbiamo qui quest'oggi! Non so, grazie! Ho molta paura del suo vestitino, ma per favore, ma non farmi ridere, ma ti spacco la faccia con questo! Che cos'è, Steph? È un Lucky Block che ti picchia! È un Lucky Block verde? Sì, infatti è il Lucky Block Creeper! Non mi stavo picchiando... Ah, ok, esploso! Hai capito? Però non l'ha fatto troppo male, dai, me lo immaginavo un po' più cattivo, Steph! Dai, mi deludi così! Mi stai provocando? Io sono prontissima per oggi! Che è questo? Mi sta avvelenando però il Lucky Block del veleno, questo! Esatto, questo è un po' più cattivo! Aia! Questo oggi, Fere, si fa sul serio! Ho della roba che tu non ti sei neanche mai sognato nella vita, quindi non mi provocare perché ti evoco gente cattivissima! Sto tremando troppo, Steph! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki! E sono Steph che si giocava a Minecraft! Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft dove torna la temibile, bellissima e fantastica guerriera Fereniki! E Steph ne ha appena messo un lumacone! Che ti spara frecce! Mamma mia, è cattivo questo, Steph! Hai visto? Un botto male! Questa mod aggiunge con solini una roba come 50 mostri! No, scappo, scappo, scappo! E sono tutti così particolari! Cioè, guardate quanto è già in difficoltà, Fere! A freccio ovunque! Di recuperare dei cuori qui ho bisogno! Eh, stai schivando bene! Brava, brava, brava! Ok! Ce la puoi fare, Fere! Sconfitta! Sconfitta immediatamente! Stonadron! Anche dei nomi! È bello! Sì, certo, certo! Questo io lo chiamerei il lumacone, però, eh! Lumacone spara freccione! Spara frecce! Freccione, facciamo il rimone, Fere! Aiuto, Steph! Dammi un'arma! Aspetta, le prendo al volo! Eh, vai, 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 vai! Ma ti ha messo pure fuoco adesso! Ma che è? Ma porca miseria! Ma scu, ma quante cose sa fare questa lumaca? Io esigo subito una spada in diamante! Sì! Perché qui non si può... Ma forse anche l'armatura è in diamante! Eh, non si può neanche continuare! Quindi io lo... Lo pretendo, Steph! Sì, il problema è che non so come far calmare sto lumacone! Sì, è incastrato in un buco! Non ho il controllo! Vieni, 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 via! Ah, andiamo via? Eh sì! No! Non saltare! Accidenti a lui, Steph! Sì, segue l'umacone, scappa per... Corri! Pronta a riaffrontarlo? Vado, vado! Eh, ma che stavolta si senti più sicura, eh! Ok! Guarda che è fuori... Ma quando è che mette fuoco? Non lo so, non ho mica capito, Steph! Forse se ti avvicini con le torce... Oh, cavolo, è fortissimo! Cioè, stai rimorendo? Eh sì! Golden apple, vai! Di già! Di già! Sì, non me ne frega nulla! Ok! Perché è imbattibile sto coso, Steph! Continua a pestarlo, dai che... Ma quando... E se è solo il secondo... Oh, cavolo! Siamo messi male se questo è... Ma... Mi calmate un attimo! Non vale mettere fuoco, eh! Non vale! Ma sono fortissimi! Quando muoiono? Non ne ho idea! E sono tanti, tanti e forti! Non ne ho idea! Vabbè, no! Quello è fermo, quello è fermo! Devi attaccare solo quello in movimento! Ce l'hai fatta? Sono tutti morti, sono tutti fermi! Ce l'hai fatta! Allora, ripigliate la carne che è qui! Così non mi chiedi più cibo a me! E non mi rompi le scatole! Hai giusto qualche... Ah, le vedo, le vedo, Steph! Le vedo! Ma stai bene, sì? Sì, tutto a posto! Di 33, tank! Non so... Oh mio Dio, non ci credo! Sto bello però, lo voglio questo, Steph! Regalamelo, ti prego! Non ci posso credere! Potrebbe essere un regalo bello! Pensa se combatteste per me! No, ma qui sono tutti forti, Steph! Ma poi ti sta mettendo fuoco! Cioè, questo qua spara direttamente fuoco! Sono morta, Steph! Cioè, non è possibile! Posso andare avanti solo con le gold di Naples! Allora, usa la spada che ti ho donato! Ok, questa! Teoricamente è più forte! La quintana! Fa più del doppio del danno di una spada... Ma stiamo scherzando? Esplode pure! Perché non bastava che c'ha tipo 200 di vita! Prendere fuoco, non basta! Non devi neanche esplodere! Comunque è questa, se la vogliamo far vedere bene! Sì, sì, sì! È una sorta di spada di diamante migliorata! Certamente un po' brutta, Steph! È brutta, vero? E beh, perché è una cosa più forte, ma devi fare più gigante, non più fine! Capisci? Questo è il Lucky Golem! Che bellino! Ma non attacca! Non merita di essere attaccato, secondo me! Allora lasciamolo qua! Magari mi difende... Steph! È rimasto tranquillo! Mi difende con i prossimi mob! Vediamo! Magic Glove! Quindi, teoricamente, è un guanto! Oh, 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 oh! Trova a dargli un colpo! Lo picchia, no! Non ne frega me! Ma anche lui non mi attacca! No, no! Aspetta, attacca, Steph! Ma... Attacca malissimo! What? Attacca davvero male, Steph! What? Calmati, guantino! Mi devo riprendere le mie cose! Alzato in aria, è devastato! Sì, 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 sì! Il guantino è cattivissimo! Io non lo attacco più, eh! E poi è così carino! Con cinque colori diversi! Ti stai... Cioè, lo stai abbandonando già? Sì! Ma quest'oggi non sei proprio forte, per... No, cioè, no, è too much, Steph! È too much? Sì, sì, sì! Andiamo a quelli dopo? Ma poi, cioè, non ci stava scocciando! È qua, è qua! Guarda, che carino! Lasciamolo qua! Avvicinati! No, no! Parto dall'ultimo perché mi ispira troppo! È una torretta! Aiuto! Che fa? Beh, teoricamente spara? Ma difende o attacca? Perché questo è importante da capire! Ma... Che fai? L'hai ricaricata? No, no! A picchio! Ok, no! No! È tranquilla? Sì! Ma che fin... Sì, 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 sì! Scusate, è smiratissima! Ah, ma molto, molto, Steph! Sì, ma fa pena! Sì, abbastanza! Non ne ha colpito uno! Non ne ha colpito! E comunque di lasciarla qui al mio servizio! Va bene! Va bene! È morta! Ah, no, è qua! Ecco qua! Vedi, queste sono le cose che non... Torretta, lo vedi? Ma perché i golem, però, sono pacifici! Infatti se li faccio... No, i golem sì! Che bello che è questo! Bello, questo sì! Il prossimo fa ridere! Sei pronta? È bello! Guarda il prossimo! Vai! Il dispenser golem! I golem sono belli, eh! Soprattutto perché non ha... E adesso è cattivo! Più la torretta che spara! Steffa, aiuto, aiuto! Che sono? Dimmi che sono almeno! Si chiama Armageddon Witch! Ah, ecco che sono! Sì! Credo che evoca dei villageri tipo assatanati! Indemoniati, indemoniati totalmente! Ma, cioè, i golem non riescono a far nulla! Gli aiuto! Perché i golem sono bravi! Hai visto che poi fa pure i fulmini? Sì, ho visto! Cioè, sta facendo un disastro l'Armageddon Witch! Ovviamente è quella lì diversa da tutti gli altri! Fere, devi killare lei! Bisogna trovarla, esatto! È lei, è lei! Quella col capello! E lo so, ma è difficilissimo vederla! Non l'hai uccisa, non l'hai uccisa, non l'hai uccisa! È difficilissimo! Continua! Era un fulmine, cos'era che mi ha sciottato totalmente? Sì, 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 era un fulmine, Fere! Ah, no, è esploso il golem! Sì, sì! E sta continuando ad evocare i villager! Io non ho più niente con cui picchiarla! È davvero difficile prenderla! Perché poi tutti gli altri vanno di fronte, li vedi! E continua poi! Le mie cose! Corri, Fere, scappa! Perché questa non si può battere! Non muore! No, no, non è possibile! Immortale! È pagata! È evocato un demone! Un demone che distruggerà il mondo! È pagata! No, non se ne andrà mai via! Aspetta, ascolta! Andiamo dall'altra parte! Ok, ti seguo, vai! Vai strada! Non è possibile! Non è possibile! Non possiamo fronteggiarla! Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Eccomi! Guarda che bel posto! Devi ridere tutto, però! L'hai visto? Fere! Dai, è rimasto tutto là! Non ci posso fare! Tu, adesso, a me, stai chiedendo tutto! Sì! Ma io non ti do nulla! Ti do la normatura in leather! Da un lato abbiamo lo scheletro di golem! È troppo carino! Ma il più bellino è questo! E poi questo qua, che sì, sembra tipo uno scolaretto! Sembra uno scolaretto! È troppo carino! Dimmi! Mi dispiace dirtelo così, però... Devi... Smettere di... Non possiamo continuare! No! Sto sverendo, Steph! Ho capito! Di solito era... Sto sveruta! Sto morta, Steph! Posso fare anche un'altra cosa? Non mi vedi? Non ne vedo le lacrime! E che cavolo? Non so perché ho smesso di poterle vedere! Allora smacco di nuovo, Steph! Dicevo... Vi ricordate che con gli altri mostri era sempre... Ah, li ammazzo tutti! Troviamo dei mostri forti e guardate che buffona che... La Queen, Fere, Fere Queen, bla bla bla! Sto ballo! Allora, partiamo! Vai, io non ho scrupoli! Ma forse questo ti difende! Ma mi sta fissando! Forse non ti difende! Ok! No dai, sembra che difenda! Poi abbiamo questa! Ah, ma mi stai facendo vedere le torrette! Queste sono tutte le torrette! Poi abbiamo questa! Ok, tutti i tipi! Esatto! Poi abbiamo questa che è della neve! Ah, questa è bella di ghiaccio! Poi c'è lo Steve Golem! Questo è terribile! È bruttissimo, Steph! È osceno! Il Wizard ti dovrebbe attaccare? Che figo! Perché nessuno mi attacca? No, non mi attaccano! Sono buoni! Ma sono tutti pacifici! Forse perché è un villager e un golem, quindi tecnicamente non ti attaccano! E lui? No, no, sono tranquilli! E allora lui? È un monto di pace, Steph! Pace e amore! Mi state tutti deludendo tantissimo! Ma l'attaccano! Dovrete massacrarla! Non c'è un mal di pancia davvero! Ci avete creduto! Sì, che è un mal di pancia! Ma aspettila! Mi stanno guardando, hai visto? Comunque, queste torrette... Le voglio vedere in azione! Sei pronta? Sì! Vado? Sì! Facciamo un disastro, eh? Sì, 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 sì! Ok? Eh, dai, tutte insieme sopporti! Però ci passo sempre io accidenti! Perché? Eh, vabbè, sì, sì, certo! Quella è normale! Di ghiaccio spara palle di neve, totalmente! Il Wither lancia teste di Wither! Vero, vero! Sì, sì! Poi ci sono meteore, totalmente delle meteore! Non capisco proprio dove arrivi, no? Capisci? E c'è il meteor, quello lì in Brix! Quello lì spara meteore! Sì, sì, sì! Quello è forte! Quello è fortissimo! E invece i maghi fanno qualcosa! Non li ho visti in azione! Non so! Ma sembra che pestino a pugni! Non so, non si capisce! Loro sono molto schiappe! Spider pig! Spider pig! Ma questo è... Ma no, ma no! No! Era carino! Era carino! Sei cattivo! Era troppo carino! Uffa, Steph! Allentandiamoci un po'! Via! Io volevo fare la canzone! E me l'hanno totalmente rovinata! Riprovo, eh! E poi è anche sbagliata, Steph! Come tutte le cose che tu canti! No! Spider pork! Spider pork! Hai cantato spider pig! Perché si chiama spider pig! Non hai capito? Ah, no! Mi hai rovinato anche tu la canzone più del golem! Ma Steph! Sei una persona terribile! Spider pig! Spider pig! Non mi ricordo il resto! Però è carino! Non attacca, vero? Ma non capisco perché sono tutti pacifici in questo mondo! Secondo me questo non è pacifico! Questo è cattivo! Da lì, da lì è uno schiaffetto, vai! Vado! Vai! Ti è arrabbiato, sì! Sì! Sì, sì! Mi ha avvelenato! Mi ha avvelenato! Scusa, ho perso la spada! Mi ha avvelenato! Volevo vedere un attimino che effetto mi dà! Però è già sparito! Non ha schiaffo! Niente di che! Niente di che! Adesso sei pronta a incontrare l'unico, il magnifico, il Torchman! Non vuole attaccare! Non vuole attaccare, vero? No! Comunque un applauso a chi si è inventata sta cosa, eh! Perché chi è che ci avrebbe mai pensato nel mondo? È la mod di mostri più bella che ho mai visto! Non credo che potrò cambiare idea mai e poi mai! Questa cosa... Questo lo voglio! È fantastico! Cioè, me lo devo portare presso persino! No, ma devi picchiarlo per scoprire se... come attacca! Cosa? Si moltiplica! Ah, fanno abbastanza schifo! Però c'è da dire che a ogni colpo si moltiplicano, anche se poi... Devi attaccarli velocissimi per riuscire a farli finire! Che abbia un limite! Esatto! E niente! Droppa questi, Steph! Cosa sono? Tic! Beh, mi sembra giusto! Zombie witch! Che bellina! Bellina! Mettila! Cosa ti ha... Cavolo, cavolo! Oh, cavolo! Oh, Steph! Non le devi abbiaccare le witch! Saga, Steph! Ti devo spaccare la faccia, no? Sei una cosa terribile! Lo sai! Lo sai! Guarda! Come faccio a prenderla adesso? Dobbiamo andarcene! Vero? No, io neanche vedo dov'è! Cioè, ci vorrei provare! Ma sai che forse l'hai ammazzata? Davvero? Sì! Ma sei mezzo a spammare! No, sì, sì, sì! L'hai ammazzata! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Questo era più scarso dell'altra! Sì! Vabbè, siamo pronti? Vieni, Steph! La carne marcia per te! Beh, c'è anche la voce da strega! Stony spider! Stony spider! Il più carino! Questo è bellino! Ciao! L'hai detto anche per l'altro! Ma sono bellini tutti! Vai! Poi, non so bene cosa sarà, però abbiamo anche il moschettiere! Oh, cavolo! No! No! Oh, cavolo! Ti ho visto puntare, brutto disgraziato! T'avevo già capito! Aspetta! Da lì è solo una botta! Voglio vedrello sparare! Voglio vedrello sparare! Ma ti ha sparato? Eh, lo vedi? Mi sta sparando! Sì, mi sta sparando! Ma non si vede il proiettile! Perché ti devo dire? Io lo vedo! Guarda cosa ti danno! Cos'è? Oro? Oro! E tu sei felice con l'oro! Sì! Beh, ragazzi, inizia di tutto! Lasciateci un bel like! Se avete detto il nostro video potete considerare il video di iscrivervi per non perderevi altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti.